Non c'è ragione di essere nervosi, sei nervoso, no, non c'è ragione di essere, sono persone cordiali, davvero, molto cordiali, sono la mia famiglia, non sono porchi. Mi piace se bevo, eh sì, è buffo, rivedere il mio fratellone dopo tutti questi anni, è proprio il ricostituente di cui papà ha bisogno, domattina gli si gonfieranno le palle dalla gioia quando incontrerà il suo primo genito. Sei un vecchio, sei un vecchio. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Signorina, sì, lei è madre? Sì. Qualcina è? Tre. Tutti tuoi?